E' bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video, questo è il secondo video di quel gioco là Di esplodiamo insieme Ah ok, di esplodiamo insieme, sono sempre con Len, con Bomber, chiamatelo come volete, lo chiamo Bomber E niente ragazzi, siamo sempre su questo gioco, quindi iniziamo Bombs Speriamo di non esplodere Speriamo che adesso raga, la finiamo questa partita, perché se no Che poi tra l'altro ce ne sono 300 miliardi, è completamente più difficile, è completamente del tutto, vabbè insomma è quello Ok, sono sulla bomba, e vedo già, giallo Cavi subito Quattro cavi Ok Dimmi i colori Due gialli, uno nero e uno bianco Ok Eh, rossi no No Taglia L'ultimo è giallo Sì Taglia il primo Ok, è verde, poi? Ok Eh, bottone? Bottoni c'è una n al contrario Non intendevo quello ma ok, n al contrario Ah ok, una h tipo, o una k, non so come vuoi dire tu Aspetta Questa n al contrario ha tipo, la fine di questa n è un po' storta tipo Sì, sì Ok, l'h che dici tu Sì, è storta pure Ha il triangolo in alto No O ha pure la parte in basso storta La parte in basso è stortissima È una x, ma va bene Ah Vai Poi c'è una o con un piede Ok E poi c'è tipo un tavolo con una sedia Ho capito, ma è il tavolo Allora, premi la o Il tavolo con tre piedi, la Il tavolo con tre piedi Ok, poi Ok Eh, la o l'hai premuta Sì La n Il tavolo con tre piedi E poi la x Ok, è verde Ok, il bottone è grande Il bottone è blu con scritto hold Il bottone è blu con scritto hold Allora Ci sono due batterie? Sì Ok No, ce ne tre Ce ne tre Va bene, ok C'è da qualche parte scritto frk? Oddio No Mannaggia Allora, aspetta Abbiamo detto blu con scritto hold Sì Eh Per rosso Eh Se il bottone è blu dice abort No Eh Se dice Dayton 8 No Se il bottone è bianco No Se ci sono due batterie Biotto sì Ma non c'è scritto frk Sei sicuro? Cosa? Che non c'è scritto frk Ma dove deve essere scritto? No, non c'è scritto frk Nei lati Se tu guardi nei lati Dove tipo vicino alla batteria Non lo so No, è scritto sig Ok Oppure tnr Non ci interessa Grazie Tieni premuto Cosa? Il bottone Apri la teca E tieni premuto il bottone Vedi se cambia colore Sì, è blu Ok Adesso l'ho lasciato Ripremilo e lascialo quando c'è un 4 In qualsiasi posizione nel timer Adesso è giallo Adesso è giallo Se è giallo lascialo 6-5 Sì Sì Ce l'abbiamo fatta Sì Sì Ci voleva per forza il secondo episodio Oddio Perfettissimo Vai 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 Diffused In un minuto e 55 secondi Best time Eh lo vedi Vabbè Siamo troppo forti ormai dai Wow Adesso? Questo gioco è bimbi Free play? Cos'è sto free play? No 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 Andiamo avanti Free play è Giocare così a cazzo Bombe a cazzo sì Ok Poi c'è Ah la seconda Quindi Something old That's new Vai Vabbè lascia stare Che sei meglio in tedesco va Vai avanti Dimmi quanti moduli ci sono Leg my new island No 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 Per favore Non cominciare a parlare Africano Ok allora Ci sono Quattro Fili Ok Perché sei illuminato Un bottone di verde? Oh merda Quello è complicato A merda Vabbè dai Lo facciamo dopo Ci sono quattro fili Ok Due gialle e due blu Eh basta Sì Sì Sono quattro Cretino Ehm 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 Taglia l'ultimo Sicuro eh Sì No No è sbagliato No è sbagliato L'ultimo è giallo E non ci sono cavi rossi No Sì No Sì Taglia Sì cosa Sì che ci sono i rossi No non ce n'è i rossi Taglia il primo Eh ok Verde vai Adesso Cosa altro c'è Ci sono i bottoni O il bottone Bottoni E bottoni più bottone Ah tutto Perfetto Vai dimmi i bottoni Ehm Blu Giallo Rosso e verde Ah quelli Madonna non ne stai azzeccando uno Allora aspetta che lo vado a cercare Credevo fossero i bottoni quelli che abbiamo fatto fino a ora Ehm Qualcosa che non va in questo foglio Non c'è questo Cosa Aspetta 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 Magari sono cieco io Ehm 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 Hai detto che Lampeggia Il blu verde Sempre il verde Ok Ehm 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 C'è tutto Sti versi Madonna mia Allora Abbiamo fatto uno sbaglio Giusto Sì Ok Nel C'è una vocale Che vocale Una vocale Dove ci sono tipo i numeri C'è tipo A e Io No Non ce n'è giusto No Ok Ehm La luce È verde Premi blu Ah ok Verde e blu No Allora solo blu Però aspetta Ora ci sono due sbagli Quindi non premere blu Coglione L'hai premuto Eh sì Che palle Siamo esplosi Sì È complicato Ma fa schifo Dai un altro Vai Ti giuro che è complicato Ok dai 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 Allora ci sono tre fili Ok Bianco Nero E giallo Quindi tutti diversi Ehm L'ultimo è bianco No l'ultimo è giallo Ok Non ci sono rossi Giusto Ma che cazzo è Sei tondo Perché me lo scordo Taglia il secondo È il nero eh Sì taglia il secondo Ok è verde Oddio che cazzo è sta cosa Che cos'è C'è un disegnino Dove c'è Un triangolo Rosso Che cosa è Un triangolo Un quadratino bianco Che cos'è Allora Allora Ci sono tanti quadratini In un quadratino È bianco Un quadratino È accerchiato di verde E uno È diventato triangolo Aspetta Ci sono tanti È un quadrato grande Con tanti quadratini E delle freccette ai lati Sì Che cazzo ho fatto Ho premuto una cosa Madonna Perché Fai le cose Perché Allora Dimmi una cosa Ehm Dimmi dove sono I quadratini Quelli diciamo Colorati Non il triangolo Ehm Uno è in alto a destra In alto a destra A sinistra Come cazzo te lo spiego Che cazzo è in alto a destra A sinistra È il quinto Della prima fila Dimmi la casella Per esempio è Quinto della prima fila Quinto Quinto della prima fila Ok Allora Fai così È il secondo È il secondo È il terzo Della penultima fila Perfetto Ok l'ho capito Dove sei Dimmi Dove è il tuo quadratino Il triangolino Scusami È uno Il quattro Della terza fila Terza fila Dall'alto O dal basso Dall'alto Scemo Si conta dall'alto Non dal basso Quindi allora Terza fila Hai detto Quarto Sì Ok Vai sopra di uno Ok Aspetta Vai a destra Di uno Ok Sopra Ok Sotto Sì Dinistra Sì Sotto Sì Sotto Sì Dinistra Sì Sotto Ehm È ora Perfetto Hai finito Teoricamente E non è verde Verda C'hai un altro triangolo Tipo un altro qualcosa Ho un triangolo rosso E sei tu No non sono Io sono il quadratino Quello bianco Ah E dov'è il triangolo rosso Ehm È il L'ultimo Della seconda fila Ok Sopra Sopra Come ci vado sopra Vai Clicca il sopra Ah ok Eh destra Sì Sopra Sì Sopra Sì Destra Sì Sopra Sì Destra Sì Giù Ok È verde Ok Adesso c'è un bottone rosso Che ho scritto donate Donate Eh Detonate Che cazzo è Dai un minuto Dai C'è un bottone rosso Che ho scritto donna Ma è stato supplicato Detonate dai Ehm Bottone rosso e non dice hold Ma perché non ce n'è mai uno che funziona Ehm Bottone rosso Detonate si è scritto Detonate C'è più di una batteria? Oddio porca puttana Abbiamo 50 secondi Ce n'è Ehm Zero Ok Tieni premuto il bottone E dimmi che colore ti spunto Rosso Ehm Lascialo quando c'è un uno In ogni posizione Che significa? Come quello del cinque Come quello del cinque Però lo devi lasciare quando c'è scritto uno Ok Siamo troppo bravi Ok ragazzi Per questo video è tutto Lasciatemi sempre un bellissimo commento Anche un bellissimo like E iscrivetevi al canale Se questo video vi è piaciuto Noi ci vediamo In un prossimo video Sempre su questo gioco Non lo so Ora si che potete chiamarmi Ad esempio Vedi Ora si Adesso sapete chi chiamare Ok ragazzi Potete chiamarmi al numero Mi sopra impressione Eh Come come il numero Aspetta lo dico subito Ora ve lo dico subito No 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 Ok ragazzi Ci becchiamo nel prossimo video Bella